ciao sono emma sforza consulente immobiliare your house property solution ho appena concluso felicemente la vendita di questa villa sulla provinciale polignano conversano perfetta per chi vuole vivere in campagna tutto l'anno non lontano dal paese questa proprietà in soli 90 giorni ha trovato una coppia che se ne è subito innamorata sono felice di aver realizzato il loro sogno ma allo stesso tempo altre famiglie sono ancora alla ricerca di una proprietà simile per questo ho bisogno di te se stai pensando di vendere la tua villa in campagna o al mare nei territori di polignano monopoli cozze o mola contattami e insieme aiuteremo altre famiglie a realizzare il loro sogno di casa ti aspetto